U-Smart Working è il prodotto di organizzazione della forza lavoro più smart presente sul mercato, consente alle aziende di mantenere il costante contatto con ogni operatore, semplifica e organizza il lavoro in modo veloce. Affrontare missioni e turni di lavoro senza un'organizzazione adeguata può riservare qualche imprevisto. U-Smart Working permette di pianificare il lavoro in mobilità di tutta la forza lavoro in maniera semplice e precisa. Fornisce agli operatori e o alle squadre le disposizioni riguardanti le attività da svolgere sul territorio. Dalla centrale operativa web si identificano gli utenti, si assegnano e si controllano le attività, i turni di lavoro, le richieste di materiale di ricambio e si possono verificare i report preparati in mobilità dagli operatori. U-Smart Working. Imprevisti addio. U-Smart Working permette all'utente di segnalare l'inizio e la fine del turno di lavoro, garantite dalle coordinate rilevate tramite il GPS. Un contatto costante tra centrale ed operatori semplifica il lavoro ed aumenta la produttività. U-Smart Working non è solo agenda attività, è possibile infatti corredare un lavoro con fotografie scattate direttamente con il dispositivo ed aggiungere informazioni importanti. Tramite l'integrazione con la soluzione U-Talky di U-Co sarà possibile attivare le conversazioni vocali tra operatori in campo e sarà possibile attivare le conversazioni vocali tra centrale ed operatori. U-Smart Working organizza le attività giornaliere in scenari di lavoro diversi, come ad esempio aeroporti, migliora la collaborazione tra le diverse squadre, operatori di vigilanza, trasporti su gomma sia tradizionali che con mezzi refrigerati, monitoraggio della temperatura, apertura e chiusura porte, contesti industriali, ambienti di lavoro estremi, con situazioni di potenziale pericolo. U-Smart Working inoltre ha la funzione per richiedere ferie e permessi. Le richieste sono modificabili fino al ricevimento di risposta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.